L'arrivo di Khan mi colse di sorpresa, anche se nello scontro con i banditi avevo avvertito una presenza amica nelle tenebre. Khan mi assicurò che il mio destino non era legato a quello di Barbol, ma mi dispiaceva che fosse morto. Di qui non passa mai nessuno, né persone, né bestie. Non ci sono neanche i topi. Loro sanno che siamo qui. Avvicinati ai tubi e ascolta, ma non fermarti troppo a lungo. C'è chi dice che sia la voce delle gallerie. Altri pensano che sia una forma di suggestione. Conosco questa galleria. E lei conosce me. Andiamo. Fai attenzione, questa galleria è pericolosa. Non spegnere la luce, amico mio. Se non vuoi che restiamo qui per sempre. Fermati e guarda davanti a te. Non penso che in questo caso si tratti di chi. Dobbiamo passarci attorno. Non toccare le sagome. Concentrati. Andiamo. Andiamo. Amico. Amico. Mamma, dove sei? Mamma! Spostati, Artyom! Questa galleria è costretta a rivivere il passato molte volte e gli sventurati che la percorrono in quel preciso istante di solito finiscono per popolare quel passato. Andiamo. Fermati e guarda davanti a te. Molto tempo fa qui infuriava la battaglia. I difensori occupano ancora le loro stazioni. Seguimi, ma non ti allontanare. Non so, non so, non so. Preferirei che rimanesse un segreto. Sono faccende personali, amico mio. Ero con loro quando sono morti. Sono l'unico sopravvissuto. Abbiamo praticamente distrutto ogni cosa. Anche paradiso, inferno e purgatorio sono stati pulverizzati. Così, quando un'anima abbandona il corpo, non ha nessun posto dove andare e deve restare qui, nella metropolitana. Una punizione dura, ma non immeritata per i nostri peccati. Non sei d'accordo? Ah, maldant! Concentrati! Ah, merda! Ah, questo sventurato viene dalla maledetta. Evidentemente le cose vanno male laggiù. Andiamo. Can era un uomo fuori dal comune. Ma penso anche che fosse un uomo del suo tempo, a metà strada tra la luce e il buio, alla ricerca di risposte sepolte tra le rovine. Andiamo. Lo senti arrivare a quanto vedo. È un talento raro, dovresti usarlo. Ora non muoverti. Non muoverti. La chiamiamo anomalia. Un fenomeno nuovo, in un mondo nuovo. Un fenomeno insidioso, vero? Ma sai, non è più cattivo del fuoco, tanto per farlo salire. Dipende tutto dal tuo punto di vista. Cerca di capire meglio le cose prima di giudicare. E ora andiamocene qui, non siamo al sicuro. Preparati. Le bestie ritornano. Grazie. 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 Stai fermo. Non è il caso di interferire. Funziona così. Una dimostrazione dal vivo. Funziona così. Sali sul carrello. La galleria dovrebbe essere sicura più avanti. Ci arriveremo facilmente. Artyom, la tua è una nobile missione. Credi davvero che la polis ti aiuterà? O semplicemente non c'è rimasto niente in cui credere? Non sei tenuto a rispondere. Ma arriveremo presto alla stazione maledetta. Gli attacchi dei mostri sono stati ininterrotti. Buona parte degli abitanti se ne sono andati. I pochi sfortunati che sono rimasti non hanno nessun posto in cui andare.